Conto alla rovescia per Vinitalian The City in Calabria, l'evento che per la prima volta nella sua storia oltrepassa i confini di Verona, approdando nello scenario del Parco archeologico di Sibari. Da venerdì 30 agosto, domenica 1 settembre, con Sibari, la Calabria diventerà la patria dell'enologia grazie alla collaborazione tra la Regione Calabria, Verona Fiere e i parchi archeologici di Crutone e Sibari. Si svolgerà qui dal 30 agosto al 1 settembre il Vinitalian The City per la prima volta al di fuori da Verona e dai confini del Veneto. Si svolgerà in Calabria, si svolgerà laddove tutto è cominciato, presso questo meraviglioso parco archeologico dove ci sono le antiche rovine della Sibari leggendaria, la Sibari del lusso, la Sibari del buon vivere, laddove probabilmente gli antichi Sibariti circa 3.000 anni fa consumavano il vino che veniva prodotto sulle colline della terra di Enotria che riuscivano a trasportare attraverso i nodotti. E laddove tutto è cominciato noi vogliamo ricominciare la storia di una viticoltura calabrese che in questi anni è cresciuta tantissimo in termini di qualità. All'evento si potrà accedere soltanto per mezzo del servizio novetta gratuito messo a disposizione da Ferrovie della Calabria. L'ingresso sarà consentito a coloro che avranno acquistato il carnet disponibile sul sito Vinitalian The City. Una Calabria che deve essere protagonista, una Calabria che deve presentarsi con l'abito migliore, una Calabria che può e deve dimostrare come anche queste manifestazioni siano alla portata della Calabria dei Calabresi. In tanti stanno lavorando durante questo caldo mese di agosto per fare in modo che la manifestazione si svolga al meglio. Sono convinto che tutto andrà bene ma sono soprattutto convinto che la Calabria ancora una volta sarà terra straordinaria di grande attrattività e di grande curiosità.